Se ancora avevate qualche dubbio su chi sia il maestro più forte, più figo, o la maestra più forte, più figa degli anime, questo è il video adatto per voi. Adesso andremo subito a fare questa bellissima board cup di 32 personaggi che si andranno a sfidare per chi è il maestro o la maestra migliore di tutti. Iniziamo subito con Izumi e Kurenai. Izumi al momento non ho presente chi sia, ma Kurenai viene da Naruto, conosco, l'hanno rappresentato anche molto bene direi da qui. Facciamo andare avanti Kurenai. Qui abbiamo Myers e Shino. Myers, che dire, ottimo design. E poi abbiamo Shino direttamente da Naruto, Myers non ho presente. Non avendo presente chi sia, voto Shino, anche se in quella foto lì Shino arriva da Boruto ed è imbarazzante. Mamma mia signori, Gojo Satoru contro Master Roshi. Questa è già brutta, questa è già bruttissima, perché da una parte abbiamo il presente e dall'altra abbiamo il passato. Però stiamo parlando di maestri. Maestri, insegnamenti. Gojo, Itadori, Fushiguro, Nobara. Non sembra attualmente che gli abbia insegnato granché. Invece il maestro Muten, al contrario, diciamo che ha insegnato anche nel corso di Zeta, non solo della prima serie di Dragon Ball, anche nel corso di Zeta, pur non essendo stato un combattente. È stato comunque visto molto poco nella serie di Dragon Ball Zeta. Ma nonostante ciò ha comunque saputo dimostrare il suo valore da maestro. Quindi il maestro Muten va avanti. Whis e Yamato. Abbiamo da una parte Dragon Ball, dall'altra Naruto, ma tra l'altro Yamato è inquietante con questa faccia qui. Quanto a maestro Whis sia insegnato, insieme a Beerus, ma principalmente lui, a trasformarsi, a trasformare Goku e Vegeta in Super Saiyan Blue. Ogni tanto li ha fatti allenare a suo modo, li ha preparati al Torneo del Potere, li ha preparati al Torneo con il Settimo e il Sesto Universo. Però non ha proprio quell'area di maestro Whis. Yamato, al contrario, si è occupato della squadra 7, al posto di Kakashi, per un po' di tempo. E secondo me se ne è occupato anche molto bene. Quindi passa Yamato. Genkai, che sembra uscita da Anti-Rick Stunter. Konohamaru. Konohamaru direttamente in quella forma da Boruto. Konohamaru anche. Non conosco Genkai, però Konohamaru anche per Boruto, per Sarada, per Mizuki. E' stato un ottimo maestro. Oddio, ottimo no, però è stato un bel maestro, dai. Ichika e Nanami. Ichika, boh, vedo una spada samurai pronta a sfoggiarsi. Suppongo sia di Bleach, ma non ne ho idea. Kento Nanami, neanche starla a dire. Grandissimo, Kento Nanami, epico. Però di maestro, secondo me, anche lui non è che ci abbia molto, eh. Ma non conosco Ichika, quindi vada per Nanami. Kensei, che non ho presente, e Apachai, che non ho presente, ma mi piace questa espressione messa così. Bischi, che non ho presente, Karasuma, che mi sembra di averlo già visto, ma non mi viene in mente adesso dove. Andiamo per Karasuma. Akisame e Re Kaio. Ma signori, Re Kaio tutta la vita. Ha insegnato a Goku il Kaioken, gli ha insegnato alla Genkidama, ha allenato Junior. No, vabbè, Junior più o meno, ma ha allenato Yancha, Tenzing, Riff, quando sono morti all'inizio di Dragon Ball Z. Sono tornati in vita dopo la saga di Freezer, gli ha allenati, tant'è che sono riusciti a battere, grazie ai suoi insegnamenti, l'intera squadra Genio. Contro il quale Vegeta, Krillie e Gohan hanno avuto parecchio da faticare. Assolutamente Re Kaio, top maestro. Junior e Maestro Iruka. Allalai, ai, 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 ai. Maestro Iruka, non è che sia stato tutto sto grande ninja, però è stato fondamentale per Naruto, la prima vera persona che ha creduto in lui, diciamo la prima persona alla quale Naruto si rivolgerebbe, qualora ci fossero dei problemi, al di là di Jiraiya, che tra l'altro Jiraiya non c'è più, ma il maestro Iruka c'è ancora. Junior, all'altro canto, prima persona che ha allenato è stata Gohan, successivamente ha allenato Goten e Trunks, ottimo allenatore, cioè riesce comunque a partire fuori il meglio di te, Junior grandissimo. Abbiamo Reigen, che non ho presente chi sia, e Uro Kodaki, che sembra avere anche tra l'altro un ottimo design. Andiamo per Uro Kodaki, ma non ho presente chi sia. Kishibe, anche lui ha ottimo design, e Benimaru, che sembra uscire da un anime che forse potrei anche avere intenzione di guardare, ma non ho presente qual è adesso. Benimaru, dai. Yoru, Yoruichi? Yoruichi? Non lo so, ottimo anche qua, sembra uscito da Bleach. Yam Raina, ma ragazzi io vi chiedo scusa, ma non ho presente chi siano. Voto Yoruichi perché sembra più cazzuta, ma non ho presente chi siano. Shuna? Non ho presente, ottime forme, grandissima. E Wing? Tra l'altro Wing è il nome di un beatboxer coreano, o giapponesi, che si mi pare coreano. Siamo Shuna, dai, sembra che mi aggrada di più. Levi e Naitai. Levi, di maestro, non ne idea, sinceramente, ha avuto la sua squadra, che poi mi sembra che nella terza stagione o nella seconda siano morti uccisi da un gigante, però Levi, grande stile, grande personaggio. Naitai a confronto, mi è piaciuto veramente un botto, come ha voluto sfidare Midoriya per farle entrare nella squadra. E tra l'altro lui è stato anche il maestro di Mirio, e dell'altra ragazza che spara le onde sonore, Bubble Girl forse, non mi ricordo come... Comunque sì, a Naitai è stato veramente un ottimo maestro, però peccato che ci abbia abbandonato qualche stagione fa, ma ottimo maestro. Reborn, che sembra un Funko Pop, e Dazai. Votiamo Dazai, ma non li conosco. Tra l'altro ho messo solo 32 personaggi, per cui ho detto, boh, magari quelli che non conosco non li avranno votati, no, avranno votati i più famosi. Boh, sarò io che non li conosco, ragazzi. Sedicesimi, Kento Nanami e Kurenai. Kurenai era la maestra di Inata, di Kiba e di Shino. Beh, considerando quanto sono diventati forti, tutto sommato è stata un'ottima maestra. Nanami, in confronto di maestro, si può dir poco, ha detto un paio di cose per quanto riguarda Itadori, è un altro ragazzo che, per chi si stesse guardando l'anime, non vi faccio il spoiler di chi è, ma tutto sommato non è che ha durato molto. Voto Kurenai, mi dispiace per Kento Nanami. Abbiamo Shuna e Yamato, Shuna non conoscendola andiamo per Yamato. Urokodaki e Konohamaru, che qui, non conoscendo Urokodaki, andiamo per Konohamaru. No, ho sbagliato! No, ragazzi, ma perché? Niente, ci siamo mangiati Konohamaru, ragazzi. Naitai e Karasuma. Non conoscendo Karasuma, andiamo con Naitai. Yoruichi e Shino. Non conoscendo Yoruichi, andiamo con Shino. Porca troia, ma che cazzo? Dazai e Benimaru. Non conoscendo nessuno, votiamo con la destra. Benimaru, sembra più figo. Olè, finalmente qualcuno che conosco. Tra l'altro, entrambi di Dragon, ma l'abbiamo Junior e abbiamo Recaio. E questa potrebbe essere un cattiva. Allora, se dobbiamo dirla tutta, andando ad analizzare dei piccoli dettagli, Goku inizialmente ha raggiunto Recaio e dopo l'ha allenato. Recaio poi ha chiesto che venissero anche Yanko, Tensing e Riff, anche Junior ovviamente, da lui per fare l'allenamento, no? Però Junior mi piace perché si è messo in prima linea ad allenare le persone. Cioè, in prima linea lui è l'unico che ha detto proprio, io li prendo, li alleno perché devono diventare più forti, punto e basta. Ha preso Gohan quando serviva, senza sbattendosene le palle di chiunque, l'ha preso e l'ha fatto allenare. Ha fatto così anche comunque con Gotenks e Trunks. Junior, dai, Junior, best maestro, mi dà più vibrazioni, dai. Apa Chai e maestro Muten, non stiamo neanche a dirlo, maestro Muten. Ottavi di finale, Night High e Shino. Shino, veramente, dai, in Boruto non mi è piaciuto veramente per nulla, Night High. Junior e Yamato. Qui però entra in gioco anche un minimo di infanzia, un minimo di comunque legame a quello che è il maestro, il sensei. Con Yamato, tutto sommato, ce n'è stato poco. Anche perché dopo aver fatto le prime fasi di Shippuden, poi tutto sommato, è sparito Yamato, cioè se ne è parlato veramente poco. Andiamo per Junior. Maestro Muten e Benimaru. Neanche a dirlo, maestro Muten. Quarti di finale, Urokodai, che doveva esserci Konamaru e Kurenai. Ma a prescindere tra Konamaru e Kurenai avrei comunque votato Kurenai. Junior e maestro Muten, quarti di finale. E qui, secondo me, il maestro Muten, veramente. Il maestro Muten è proprio la saggezza in persona. Scarso com'è, comparato ovviamente non alla prima serie, ma a Dragon Ball Z e quant'altro, sa comunque il suo di maestro. Cioè, è sempre quella persona che quando parla, gli altri lo devono stare ad ascoltare. Maestro Muten. Night High, Kurenai. Qui, secondo me, Night High passa al turno. E infine, abbiamo la finale. Night High e il maestro Muten. Entra in gioco anche in infanzia. Entra in gioco del legame a un personaggio. Maestro Muten, concorrate con me, ma secondo me è lui, il sensei, il maestro migliore di tutti. Vince questa World Cup il maestro Muten. Fatemi sapere se anche voi avreste votato lo stesso personaggio o chi altro avreste fatto vincere. E noi ovviamente ci vediamo a una prossima World Cup. E noi ovviamente ci vediamo a una prossima.